Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo alla terza settimana di allenamento, faremo i bicipiti, cioè bicipiti e tricipiti, volevo dire tutte e due i componenti delle braccia. Ragazzi cominciamo con i bicipiti, però prima ovviamente ci pesiamo. 56 kg e 90 kg, grasso corporeo. 11,7 kg, 15, 10, 5, con peso 36 kg più 2, cioè vuol dire abbiamo un tanto di 2 kg. Usuali per all'impeg Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ne ho fatte 4 infatti, anche nemmeno troppo bene, però vabbè, bisogna aumentare piano piano. Ragazzi, ci vediamo nel secondo esercizio, sarà Carlo Quilangere a martello però. Abbiamo 26 kg, faremo 3 serie per 8 riflessioni. Voi ne avrete preso una più grande. Ok ragazzi, prima serie completata. Nel meno troppo difficile, però rimaniamo su questo peso per ora. Eccoci qua con il terzo esercizio. Faremo carro alla corda, carro basso. Faremo 3 serie per 10 ripetizioni, ovviamente. Voi ne vedrete solo una, come sempre, e cominciamo. Ah, ragazzi, ti vendicavo il peso, 14 kg. Ciao. 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 Bene. Prima serie è fatta. Ovviamente, non è troppo difficile, però manteniamoci su questo peso, perché questo è un esercizio nuovo, quindi aumentiamo man mano. Ci vediamo con l'ultimo esercizio. Ragazzi, ovviamente, ultimo esercizio. Abbiamo il peso, abbiamo reverse, caldo, di non genere per il verso. Cominciamo, facciamo 3 serie per 10, con 20 kg. Prima serie è fatta. Allora, io avverrò le altre 2 serie, ovviamente, ci vediamo con i precipiti. Ragazzi, i precipiti, ovviamente, faremo come primo esercizio da French Press, 3 serie per 15, 10 e 5, ovviamente. Con peso 10, 20 e 30 kg. Allora, io avverrò le altre 3 serie, ovviamente, non è un esercizio di 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 un esercizio. Allora, io avrei un esercizio di un esercizio di un esercizio. Allora, io avrei un esercizio di un esercizio. Ragazzi, pesantissimo. Ve lo posso assicurare che i 30 kg ancora si sentono tanto. Ci vediamo con il secondo esercizio, che è il push down alla corda. Ovviamente, faremo 3 serie per 10. Ragazzi, ci sono 18 tiri. Ragazzi. 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 Vi farò le altre 2 serie e ci vediamo con il terzo esercizio. Ragazzi. Terzo esercizio. Abbiamo il push down preso in terza. con l'impilangere dell'automachine, ovviamente, perché non ho quello scherzo. Ragazzi. Faremo 3 serie per 10 con 16 kg. Ragazzi. Ragazzi. ok prima serie fatta ovviamente ci vediamo con l'ultimo esercizio che sarà la panga piana a presa stretta ando lì aumenteremo peso passeremo da 30 kg di primo a 34 faremo tre serie per rotta ripetizione ok ragazzi io mi farò le ultime due serie e ci vediamo con il check fisico soprattutto ci vediamo il prossimo episodio